Ciao ragazzi, benvenuti al Q&A, siamo qui con Cristian Ciao ragazzi, ciao Luca Ciao Cristian Dunque, cosa ne pensate delle relazioni sentimentali odierne e future? Ok, allora, questa è una domanda alla quale mi piace sempre rispondere e ogni tanto faccio sempre dei video a tal proposito se tu guardi nel passato, le relazioni sentimentali come erano? Erano più semplici, erano più durature ed erano, cioè le persone erano più easy going per certi aspetti non c'era anche tutta l'opzione di scelta che c'è oggi le app, gli incontri, metodi guidati per gli incontri, speed date e quant'altro quindi cosa c'è stato poi? C'è stato un improvement, un miglioramento su quelle che sono le possibilità di conoscersi, app, siti, eventi organizzati e quant'altro ma dall'altro lato cosa c'è stato? C'è stato un peggioramento secondo me della qualità delle relazioni, perché queste sono più brevi queste non durano più in eterno, adesso, giusto ieri è uscito il comunicato di Francesco Totti e di Leori Blasi che si separano dopo 17 anni di matrimonio forse 3 di fidanzamento, totali di 20 anni ok, che è un tempo lunghissimo se tu ci pensi, un ventennio però oggigiorno la maggior parte delle relazioni quanto dura? Un anno? Due anni? Tre anni? Io veramente sento pochissime persone che arrivano a 7, 8, 9 anni ma pochissime veramente, le conto sulle dita di una mano quindi come prevedo, queste sono le reazioni odierne come prevedo le reazioni future che secondo me continueranno ad assottigliarsi quindi continueranno ad essere più brevi ci sarà un cambio costante di parte nel corso della vita guardate anche i dati che sono usciti sul numero dei single che hanno superato il numero delle coppie Cristian lo diceva già ancora qualche anno fa però sul video che ho fatto insulti, sputi, grida la gente si è arrabbiata però ci avevo ragione ok? cioè ci sarà una sorta di ricambio costante per cui le capacità di ricostruire ripartire da capo diventano fondamentali perché questo ti capiterà a 30 anni 35, 40, 45, 50, 55 e molto probabilmente sarà così ok? perché la società ci sta portando in questa direzione qua consumistica anche sotto l'aspetto delle reazioni grazie un saluto grazie